Stefano Spizzichini nel post partita di Firenze Latina, sentivi un po' aria di casa Stefano? Lazio, roba del genere, perché stasera hai fatto una partita strepitosa, complimenti. Ho giocato contro Marcello che ce l'ho avuto come allenatore a Siena, sono stato contento, era tanto che cercavo una partita del genere così, era tanto che non la giocavo bene, mi sono allenato duro, comunque è merito della squadra, c'è sempre merito della squadra, ci sono partite del cavolo, ci sono partite di buone e belle, succede, prendiamo quello che c'è e basta, è importante aver vinto. Ascolta, vittoria importante perché Latina non è la squadra dell'andata, ha messo dentro giocatori molto importanti, voi venivate dalla sconfitta di Treviglio che aveva lasciato un po' la mano in bocca per non aver giocato per tre quarti sostanzialmente, oggi grande partenza però sempre le solite onde, un calo nel terzo e quarto tempino. Infatti Riccardo ha premuto tanto sull'essere aggressivi dal primo minuto, sul correre, rimanere concentrati lì, oggi abbiamo fatto un po' meglio, siamo stati un po' più continui, abbiamo perso un po' di lucidità in alcuni periodi, infatti loro hanno rimontato, però comunque abbiamo tenuto duro per tutta la gara, io penso, quindi ci siamo comportati abbastanza bene. La risalita prosegue e conta anche molto l'aspetto di aver già riposato, c'è anche più fiducia da parte vostra per questo aspetto oppure non ci pensate? C'è stato un periodo di crisi dove abbiamo discusso tanto fra di noi, con l'allenatore, in cui abbiamo cercato di trovare delle risposte e di ritrovare gli equilibri, perché questa squadra funziona se ci stanno degli equilibri. Mi pare che più o meno abbiamo ritrovato il filo, adesso speriamo continui così, dobbiamo tenere duro perché adesso è difficile arrivare alla fine. Una cosa, Polina ha speso parole molto importanti, perché ha detto comunque ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, sui risultati si cominciano a vedere, ha detto che comunque quando giochi bene te e quando gioca bene Sanna, Firenze difficilmente fa figuracce, insomma comunque gioca sempre buone partite. Gli altri sono la sicurezza diciamo, i senior si sa, noi siamo quella cosa in più, quindi se ci siamo noi ovviamente gli diamo quel contributo in più che davamo inizio anno, poi siamo scomparsi per un periodo, poi sai, alti e bassi, siamo giovani, è normale penso. Lunedì prossimo è un'altra partita molto delicata in casa di Reganati? No, adesso se dico che dobbiamo vincere un po' di seguito Riccardo si arrabbia, però secondo me dobbiamo cominciare a mettere qualcuno in fila per riagguantare quei posti che abbiamo abbandonato inizio anno.